Allora ragazzi, un piccolo aggiornamento, poi ci sentiremo domani mattina perché tanto notizie certe adesso non ce ne sono, c'è il totale riservo sulla situazione di salute di Indica. La partita è stata sospesa in maniera definitiva al 72esimo, quindi verrà recuperata al più presto, non so, oppure forse anche domani, non lo so, come si metteranno d'accordo società la Lega, ma è la cosa che conta meno adesso, si giocherà il resto della partita più il recupero chiaramente. Indica in ospedale, sta facendo tutti gli accertamenti del caso, chiaramente a livello emotivo non si poteva continuare la partita e questa è la situazione, l'importante è che Evan stia bene, che sia una cosa risolvibile, che non abbia complicazioni perché come si ha accasciato ragazzi a me mi si è gelato il sangue nei vene, ve lo dico, sincera verità, oggi oltretutto è l'anniversario della morte dei Morosini, 12 anni fa, esatti, per cui sono cose sempre che una persona non si abitua, perché un conto è il pallone, il calcio, le partite, le incazzature, un conto sulle persone, gli esseri umani che comunque sono persone che hanno famiglia, che hanno parenti, persone che gli vogliono bene, i compagni, tutto quanto, sono veramente cose delicate che esurano dal pallone e da qualsiasi altra cosa, io rinnovo i miei ringraziamenti veramente di cuore a tutto il pubblico dell'Udinese perché, ripeto, l'ho detto anche nel video precedente, è un pubblico meraviglioso, è un pubblico che è gemellato con quello della Roma, ci accolgono sempre con grande affetto e sono veramente, io trovo sempre veramente bella una gioca a Udine per questo motivo, è un grazie anche ai dirigenti, allenatori e ai giocatori dell'Udinese che si sono resi completamente disponibili a qualsiasi decisione, avesse preso i giocatori della Roma, l'arbitro, si sono stati vicini, ci hanno confortato, sono stati disponibili al massimo anche a sospendere la partita, per cui un grazie di cuore anche a loro. Rimaniamo in attesa delle sue condizioni perché per adesso non ci sono notizie certe, chiaramente c'è il totale riservo e la priva sulle condizioni del ragazzo. Girava voce anche, non so quanto veriteria, che lui avesse preso, soprattutto nel primo tempo, una comitata sul costato di Lucca e anche una nel secondo tempo e quindi questo potrebbe aver creato una sorta di micro frattura al costato che poi ha portato anche a questo dolore al petto, però sono solo cose che girano senza nessun tipo di fondamento, ragazzi, le comitate le ha prese perché le abbiamo viste in campo, però per la dinamica del suo malone non credo che possa essere una cosa del genere. Io mi auguro che sia una cosa del genere molto meno grave di quello che sembra, però l'importante è che lo staff medico, sanitario e tutti siano intervenuti in maniera celere e subito, evitando qualsiasi tipo di complicazione. C'era il defibrillatore in campo, è stato subito portato fuori, sono stati fatti subito i primi interventi negli spogliatoi e poi portato subito in ospedale, per cui l'assistenza è stata ottima, veloce e comunque senza nessun tipo di contrattempo e quello è già una cosa importante. Per cui ragazzi, la situazione è questa, non bisogna aggiungere altro, se no attende notizie e niente, ci aggiorniamo a domani in giornata, vedremo com'è la situazione, sperando tutti che rientri tutto, che il giocatore stia bene e che si possa soltanto pensare a questo episodio come una brutta cosa passata. Per adesso vi saluto, vi abbraccio tutti e ci aggiorniamo domani ragazzi, sempre Forza Roma e Forza Evan, tieni duro che vedrai che tutto va bene. Un abbraccio a tutti voi ragazzi.